Abbiamo cominciato tutti bene o male a lavorare il mese di luglio, quindi si sono persi mesi importanti come aprile, maggio e giugno che sono stati quasi lo zero assoluto per tutti. Abbiamo avuto un luglio diciamo un 60-70%, un agosto pienissimo, pieno, senza vuoti, diciamo un po' dappertutto in campagna, poi diciamo a settembre si è lavorato bene un 60-70% e a ottobre ancora non abbiamo delle percentuali ma intorno a un 50%, quindi diciamo che viste le premesse è andata bene, però una seconda parte della stagione, molti dimenticano questa aspetto, si è fatto molti programmi, stagione straordinaria, straordinaria, ma di straordinario c'è stato nulla che noi non sapessimo, che si è lavorato solo ad agosto ai ritmi a cui eravamo abituati.